Sono 13 ragazzi minorenni tra i 15 e i 17 anni per lo più tutti nati a Siena e residenti in città, per i quali è stato emesso un decreto di perquisizione personale per fatti di spaccio avvenuti tra febbraio 2020 e agosto 2021 in pieno lockdown, attraverso social network e canali telematici. In totale i decreti di perquisizione scattati dagli agenti della Guardia di Finanza sono stati 21 che hanno visto coinvolti anche 8 adulti. Attività investigative coordinate dal procuratore capo Antonio Sangermano che hanno scavato a fondo grazie alle analisi su alcuni dispositivi mobili sottoposti a sequestro in una precedente operazione antidroga e che hanno portato al monitoraggio di piattaforme digitali web per il contrasto delle attività illecite. I militari hanno analizzato milioni di conversazioni che rimandavano ad un gruppo di messaggistica creato ad hoc in un noto canale telematico e contenente espliciti riferimento alla compravendita di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana in Sussiena. Questo canale social aperto a terzi compartecipi è risultato essere una vera e propria piazza di spaccio virtuale come definita dall'autorità giudiziaria inquirente che permetteva la vendita illegale di sostanze stupefacenti tra minori nel contesto cittadino e in quello delle località limitrofe. Lo smercio di droga veniva pubblicizzato e diffuso nella chat con tanto di indicazione dell'istino prezzi suddividendo le sostanze stupefacenti per tipologia, quantitativi e corrispettivo al fine di stimolare ed incuriosire soggetti interessati all'acquisto. Un'attività che segna un importante punto di svolta nell'indagine che pur nel rispetto della presunzione di non colpevolezza aprirà le porte al processo penale, un processo delicato soprattutto quello minorile che sarà finalizzato al reinserimento sociale dei ragazzi che secondo le tesi degli inquirenti avrebbero commesso il reato.